È un'undicesima edizione di un festival che è diventato ormai da tre anni anche il festival internazionale d'organo della città d'Imperia e comunque dedicato a San Leonardo perché è nato proprio qui al Duomo d'Imperia Porto Maurizio. È un'undicesima edizione che comincia la prossima settimana con un esponente mondiale della musica organistica, Maurice Clerc, titolare dell'organo della cattedrale di Digione che aprirà ufficialmente la stagione. Saranno diversi appuntamenti tutti i giovedì, a partire quindi dal 15 di luglio con Maurice Clerc alle ore 21 al Duomo d'Imperia Porto Maurizio. Seguirà il 22 di luglio un altro dei maggiori esponenti della musica organistica mondiale, l'italiano, il maestro Eugenio Maria Fagiani. Successivamente ci sposteremo nella Basilica di San Giovanni per il concerto del 29 di luglio per apprezzare la maestosità anche dello strumento di Oneglia con l'organista Omar Caputi, titolare dell'organo di Santa Rita a Torino e per concludere con un concerto raro, un concerto per organo e pianoforte il giorno 5 di agosto con Christian von Blum dalla Germania e Giorgio Revelli che faranno quasi battaglia tra organo e pianoforte con un programma davvero entusiasmante da scoprire. A prologo di questa stagione, giovedì 8 luglio, l'Accademia diffusa ACME del ponente settentrionale proporrà un concerto dei ragazzi dell'Accademia, sempre alle ore 21 a Porto Maurizio.